Attendiamo le motivazioni ma sindora preannunciamo la nostra volontà di presentare appello contro la sentenza assolutoria. Lo sostiene Lucio Conte, avvocato del Foro di Paola, difensore di parte civile per il Comune di Tortora nel processo Marlani sui morti per tumore tra gli operai e per l'inquinamento dell'area industriale di smessa di Praia Mare. Conte è anche illegale che rappresentava la maggior parte degli operai ammalati e dei familiari di quelli morti costituiti come parte civile. E con l'avvocato Pittelli è stato tra gli interlocutori con Marzotto e Deni, responsabili civili, per la chiusura dell'accordo per l'indennizzo. Transazione è andata a buon fine a novembre del 2013 e che ha segnato l'uscita dal processo della consistente fetta di parti civili. Circa 200 tra operai ed eredi hanno ottenuto cifre intorno ai 30.000 euro per ritirarsi dal procedimento. Ma c'è chi promette ancora battaglia e considera la questione ancora non chiusa. È il caso dell'avvocato Domenico Monci, al cui studio legale è affidata la Costituzione parte civile del comune di Praia Mare. Il disastro ambientale non è prescritto, dichiara, e per questo lavoreremo per far emergere questa verità. Quella verità che è il pallino fisso del Comitato per le bonifiche dei mari, fiumi e terreni della Calabria, che sulla vicenda Marlani si batte da tempo. I fatti, hanno detto, erano evidenti e provati da ultimo anche dalla perizia richiesta dal Tribunale di Paola ad un pool di esperti. Siamo sfiduciati nei confronti della giustizia. Marzotto festeggia, proseguono, non solo per l'assoluzione. Ora, infatti, con il terreno dissequestrato potrà avviare una finta bonifica di qualche centinaio di metri quadrati e procedere alla vendita del terreno per una grande speculazione edilizia già pronta ed in parte approvata dalla precedente giunta con Sindaco Lomonaco, ex imputato per omicidio colposo e disastro ambientale, ora tra gli assolti. Adesso concludono, vedremo cosa farà il Sindaco Pratico che tanto si è speso ultimamente per la bonifica del terreno e che ha fatto intervenire l'ISPRA a visionare l'area inquinata. Vedremo cosa dirà i praiesi e tortoresi sul destino di quei terreni e di quell'area. Vedremo e scopriremo se tutte le sue roboanti parole fatte assieme al neoconsigliere regionale Guccione corrispondono alle aspettative che tutti attendono e se erano, come noi crediamo fermamente, aria fritta. Il comitato ha infine fatto sapere che il 31 dicembre alle 10 depositeranno una corona di fiori al cimitero di Praia Mare per le opera e gli operai morti.